Di una giovane donna Il sacrificio di Kinga a cura di VB Un giorno del mese di novembre di molti anni fa, la guida fisica di un centro spirituale annunciò la manifestazione di una giovane donna che disse di essere stata uccisa durante un rito satanico in una città che chiameremo T. La voce dello strumento era debole e sofferente Entità, io sono stata uccisa in un sacrificio satanico a T. Non so più quando Nessuno, tranne quelli che voi chiamate istruttori e che mi hanno condotta qui può capire il mio dolore Non riesco ad avere perdono per loro Domanda, per chi? Entità, per quelli che mi hanno ucciso Mi hanno detto che doveva essere così Ma io sono piccola, io che ne so Domanda, quanti anni avevi? Entità, pochi Domanda, come ti possiamo aiutare? Entità Pensate a una ragazza minorenne, bionda, piena di vita Domanda, dove abitavi? Entità, vicino alla cattedrale di T, a pochi metri dalla casa di uno dei miei assassini che ancora continuano a fare sacrifici Domanda, che cosa possiamo fare per te? Entità, i vostri istruttori dicono che i miei assassini devono comprendere da soli Quando avranno trovato, dicono, gli effetti delle cause che li spinsero a uccidermi non faranno più sacrifici e questo brutto sogno finirà pure per me Io seguo sempre le vostre riunioni Adesso vi devo lasciare perché non posso darvi altro che tensione e dolore Ho molte difficoltà Io non sono degna Non posso rivolgermi a voi Sono solo degna dell'altare di Satana Io non ho il diritto di rivolgermi a voi Mi chiamo Kinga Io sono nata Voi sapete gli anni che avevo? Ne avevo quindici Quindici Compiuti da appena un giorno Che cosa dite? Non vi descriverò il rituale per non scandalizzarvi Non vi dirò le formule per non terrorizzarvi Non vi parlerò di come ho sofferto Per non affliggervi Solo vengo a voi per ricordarvi che è tanto triste Per non fare Grazie a tutti